Grazie Giorgio per la linea, qui con me naturalmente c'è sempre l'assessore Ciano Contina, leader del movimento politico, molto buio femmo, Ciaro, mai imparato a memoria, l'ho sempre qui come ospite. Saluto tutti gli spettatori, tutte le persone a casa che stasera non ha niente da fare perché si dice davanti alla televisione, cosa che voglio da fare? Scusi ma abbia pazienza, per quale motivo la gente da casa segue volentieri questa trasmissione, magari segue meno volentieri i suoi interventi, è quasi sicuro. Comunque assessore so che lei si è preparato con lei una nuova proposta di iniziativa per valorizzare il territorio che mette in combinata se ho capito bene anziani e bambini. Bravissima, proprio così, perché molte volte anziani e bambini sono vissuti un po' come un fastidio, un inciampo alla routine, una roba che ti rompe i totani proprio. No, 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 non è vero, non è vero. Insomma, a volte anziani e bambini sono vissuti come un intrigo, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, per cui si parla di intrigo internazionale. Eh certo, se ti ha fatto la citazione ha detto proprio un'accreditata, perché bambini e anziani sono due categorie straordinarie che fanno parte della realtà. Esatto, bravissima, ecco perché vanno rivalutati. Bravo, questo sì, questo sì, vanno rivalutati, bravo. Allora ecco che noi, le persone della nostra fascia di età, che è una fascia utile ancora rispetto a quelle che abbiamo appena citato. Ma cosa dice? No, sono tutti utili, forse non tutti a vederla bene, a sentirla, però voglio dire non può, mamma mia. Allora, noi appartenenti a questa età in cui anziani e bambini ti fanno perdere tempo, abbiamo trovato una modalità per metterli insieme, no? Oh! Qual è il luogo di incontro dove putelli e anziani stanno insieme? Il parco, no? Il parco, il parco. Ecco che abbiamo addestrato una ventina di putelli delle elementari, addestrato, a conoscere, a leggere il nostro programma elettorale, così vai nei parchi, così vai nei panchini, chi ha finito da leggere, no? Chi si annoia, no? E ora i putelli vai a leggere il nostro programma elettorale per intrattenerli, no? Scusate, lei vorrebbe far intrattenere gli anziani dai bambini, cioè raccontando e leggendo il vostro programma elettorale. Progetto che si chiama Parchi Votito, perché si è nei parchi, no? No, guardi, scusi, io, assessore, io non so, sono veramente consternato, cioè è assolutamente ignobile. Grazie, troppo buono, troppo buono. Non è un complimento, mi pare veramente un'iniziativa. Il secondo progetto riguarda l'incontro tra le anziane che fanno acqua in piscina, no? Sì. E i putelli che vanno a nuoto. Allora anche in questo caso, tanto siccome è vecchio e va piano, non sai che riesce a fare. E allora il putello si affianca all'anziano, no? Con il nostro programma elettorale, plastificato, perché se no in acqua... Sì, beh, ovvio, se c'è, beh, voi le pensate proprio. Sì, esatto. E anche lì a leggere il nostro programma, perché noi di Molto Buio, Femocciaro, siamo sempre vicini ai cittadini. Infatti il progetto si chiama Noi non ci neghiamo. Certo, piscina, ovvio, se c'è, bella, bella, bella. Ma chi le pensa, no? Mi, mi, mi. Avevo un dubbio. Ecco, questi sono i progetti che abbiamo, caro, portare avanti, perché per noi è importante che ci sia l'incontro, la vicinanza tra generazioni distanti e la contaminazione, soprattutto. Contaminazione, questa è una bella cosa, contaminazione, in che senso? Galdino, un anziano del nostro paese, contaminazione, se c'è Pasqua, scarlattina, pure. No, ma per piacere. E' la roba che succede, ma noi le vogliamo portare avanti. Anziani e putelli insieme, freve. Chi? Freve. Ah sì, la contaminazione. Esatto, in inglese. Senta, assessore, guardi, io non so più cosa dire, noi intanto ricediamo la linea in studio e siamo apposati. Eh, direi di sì, assessore. Io l'ultimo progetto. Ah, ne ho un altro storico, che progetto è? Sentiamolo. Progetto al circolo bocciofilo, dove praticamente gli anziani insegnano ai bambini a giocare a bocce. E come si chiama questo progetto? Veccio e boccia. Che bella, che bella. Complimenti, assessore. Complimenti davvero. Sensatro, se tu dici boccia, no? Si dici il bambino, ma sei anche la boccia che ti tiri. Sì. E la vecchia boccia. Sensatro, guarda. Ma il boccia. Dove gliela tirerei io la boccia. Ah, 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 ah.